Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla lettera aperta scritta dal coordinamento delle donne di Gela. E' indirizzata al presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Si chiedono interventi risolutivi in merito all'avvertenza Eni. Vediamo. Hanno preso carta e penna ed hanno scritto una lunga lettera alla presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Loro sono le rappresentanti del coordinamento donne per il territorio di Gela. E' con forza e determinazione che intendiamo rappresentare, scrivono, la voce, il dolore ed il coraggio delle donne della nostra città. Siamo le madri, le figlie, le compagne, le sorelle dei lavoratori ed i disoccupati di Gela. Siamo cittadine di un territorio offeso e umiliato in Sicilia, in una terra martoriata e atrofizzata che tuttavia non riusciamo a smettere di amare. Alcune di noi sono nate a Gela, altre sono arrivate dopo per seguire i propri padri, mariti, compagni che avevano trovato un lavoro in questa città. Alcune di noi si sono anche ammalate qui, molte altre hanno, malgrado tutto, deciso di restare per regalare alle generazioni future una terra pulita, una terra di sviluppo, una terra da amare, senza tutte le riserve che hanno opposto le nostre menti e i nostri cuori estremati. Alcune di noi sfidano con coraggio la crisi occupazionale che ha investito Gela nell'ultimo decennio. Molte altre, infine, sono state sconfitte dalla malattia ed oggi intendiamo rappresentare anche i loro pensieri. A Gela, scrivono ancora, per mezzo secolo la parola lavoro è stata spesso inevitabilmente accompagnata dal nome del colosso petrochimico Eni. Il miracolo della rinascita è durato poco finché non ci si è accorti che si trattava di un'industrializzazione distorta, priva di sviluppo e di progettualità territoriale. La ricchezza non ha prodotto benessere di lungo periodo, turismo, agricoltura e pesca, tutte le risorse endemiche della città sono state rese marginali nel piano di sviluppo, infine accantonate. E' una Gela senza, abbiamo sperato, abbiamo creduto nella possibilità di una terra di lavoro, di una terra di salute, abbiamo creduto alle promesse di riconversione del polo e abbiamo sollevato domande, chiesto risposte, il silenzio è assordante. Durante quest'ultimo mese le cittadine e i cittadini di Gela hanno assistito all'ennesima danza disperata di un tavolo che promette lavoro e buonifiche e che poi sparisce dietro continui rinvii e bece le promesse. Intanto i nostri giovani, il nostro futuro, la nostra prospettiva di lavoro lasciano Gela e noi madri siamo costrette ad accompagnarli alla porta e ad indicare loro una strada meno disperata. Nel frattempo non vi è traccia di bonifiche e le uniche risposte che arrivano sono le centinaia di lettere di licenziamento che le aziende dell'indotto recapitano nelle nostre case. Uomini e donne senza lavoro, senza ammortizzatori sociali, ai margini di un substrato lavorativo già tristemente penalizzato dalla situazione ambientale e territoriale. Il coordinamento delle donne ripone molta fiducia nel Presidente della Camera. Loro si definiscono donne semplici e determinate che hanno un ruolo centrale nella famiglia e nella società e non vogliono rassegnarsi al destino che questa triste vicenda è importante consegnarle. Onorevole Boldrini scrivono ancora, spesso nel nostro Paese si muore di lavoro e per lavoro, ma senza non si vive. Nessun individuo dovrebbe trovarsi nell'assurda condizione di scegliere tra lavoro e salute in quanto elementi imprescindibili di una vita dignitosa. Oggi e domani chiediamo la garanzia di ambedue i diritti costituzionalmente rilevanti di cui anche lei è garante. Chiediamo risposte concrete per il territorio e la rottura del silenzio istituzionale che alleggia attorno alla vicenda. Infine pretendiamo un impegno serio, inclusivo e progettuale che prenda in considerazione le istanze e le necessità delle cittadine e dei cittadini gialesi. Questa battaglia di sviluppo e amore ci appartiene, ma non possiamo vincerla da sole. Interverrà anche il segretario regionale del Partito Democratico Fausto Raciti alla direzione provinciale del Partito Democratico che si darà domani alle 17 all'hotel Sileno di Gela. Durante l'incontro si parlerà delle tematiche relative all'avvertenza a Gela. Adesso occupiamoci dell'orribile episodio che si è verificato in una zona periferica di Gela. Uccisi e abbastonate, quattro cuccioli di poche settimane. Indignazione è stata manifestata dall'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Vediamo. Macca però episodio in una zona periferica di Gela. Quattro cuccioli di poche settimane sono stati uccisi, abbastonate e ritrovati in una pozza di sangue da chi porta in quella zona cibo per i randaggi. Altri tre cuccioli sono stati trovati a poca distanza, terrorizzati e nascosti. Lo denuncia l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Per l'OIPA, quanto accaduto nelle ultime ore, è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi di gesti violenti di intolleranza verso i randaggi che popolano le strade e le campagne della città. Per la stessa OIPA, la causa è da ricercare nella fallimentare politica del Comune in termini di gestione del randaggismo. Nessun piano di sterilizzazione, ma solo mirabolanti somme versate annualmente ad un canile, e struttura privata, ad un'ora di strada da Gela che detiene oltre mille cani. I servizi quasi inesistenti forniti da una ditta gelese a cui è stato appaltato il servizio di accalappiamento o recupero animali feriti, solo diurno e attivo 4 ore al giorno, da qualche giorno è inoltre stato sospeso a causa del termine della convenzione stipulata dal Comune. Tutti i randaggi, in qualsiasi condizione si trovino, restano quindi per strada oppure sono a carico dei volontari o dei privati cittadini. La realtà gelese, sottolineano i responsabili della sezione locale dell'OIPA, è di assoluta e costante internazionale umanitaria. Oltre all'intensificarsi di episodi di violenza verso i cani randaggi, persino contro cuccioli di poche settimane di vita, continuiamo a trovare intere cucciolate partorite da femmine randagge che non vengono sterilizzate dall'azienda sanitaria provinciale. A poca distanza dai cuccioli uccisi e bastonati nelle ultime ore abbiamo trovato, sottolinea la nota, altri dodici cuccioli nati da meno di due mesi che, nonostante la denuncia di ritrovamento alla polizia locale, non verranno ricoverati in canile per la sospensione del servizio di accalappiamento. Abbiamo inoltre avvistato nelle vicinanze cinque femmine gravide, quindi la situazione diventa sempre più grave ogni giorno che passa. Non è ammissibile chiudere la nota che Comune e ASP, enti preposti per legge ad occuparsene, se ne lavino le mani lasciando la situazione di protezioni animali abbattersi contro i murini a vento. La rivoluzione della mobilità urbana presentata dalla Giunta messinese mostra ancora l'assenza totale di progettazione. Il Comune di Gela ha investito somme considerevoli per far redigere il piano urbano della mobilità sostenibile. Il piano rappresenta la mappa della città futura. In quel documento, redatto da professionisti esperti, è stata studiata la mobilità della città di Gela senza improvvisare, è quanto scrive in una nota il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Scegliere oggi di abbandonare quelle linee e seguire una strada diversa significa non volere il bene della città. I grillini rilevano come sarebbe stato importante, anche in via sperimentale, utilizzare le linee tracciate dal piano proprio sul trasporto pubblico in modo da applicarne i principi e fornire alla città una base utile su cui crescere. Il rischio oggi, dice il gruppo consigliare, è quello di fare un investimento sociale e infrastrutturale che verrà poi cancellato dall'applicazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Le riteniamo quindi utile applicare sul trasporto pubblico locale le previsioni del piano anche in via parziale sulla base dei mezzi esistenti e disponibili senza inventarsi percorsi nuovi in contrasto con gli studi fatti. Questa gestione non porterà beneficio e lo dimostrano le azioni messe in campo dalla Giunta. Chiude la nota. Infatti, mentre si sbandiera la rivoluzione del trasporto pubblico locale in contrasto con un piano già esistente, si riduce in maniera inutile l'orario della zona a traffico limitato danneggiando ulteriormente la città solo per accontentare le richieste infondate di pochi. L'ente Acquedotti risarcirà il titolare di un ristorante di Gela per i disservizi patiti tra il 2006 e il 2010 in efficienza dovuta al pagamento di fatture per forniture idriche di acqua fornita come potabile ma che invece potabile non era. E' lo stesso ristoratore Rocco Pardo, adesso presidente dell'area sud della Conf sercente, da annunciare attraverso un comunicato il risultato raggiunto grazie a una sentenza della Corte di Cassazione. Ringrazio, dice Pardo. L'avvocato Lucio Greco e i legali dell'Associazione Cittadini per la Giustizia che hanno creduto e assistito alla mia persona e alla mia azienda perché con la sentenza 2182 della Suprema Corte obbliga l'EAS, ex gestore della rete idrica di Gela, a risarcirmi per i disservizi patiti nel mio ristorante. Con questa sentenza tutti gli utenti interessati potranno chiedere rimborso per le somme versate per il periodo compreso fra il mese di ottobre del 2006 e il gennaio del 2010, date in cui è stata revocata l'ordinanza di non potabilità dell'acqua. I cittadini interessati, conclude Pardo, potranno recarsi negli uffici della Confesercenti in corso Vittorio Emanuele 45 e ottenere le informazioni necessarie per avviare eventuali azioni a loro tutela. Si è svolta oggi al Museo archeologico regionale di Gela la mostra evento La nave greca di Gela. Sono state aperte le casse che contengono i reperti lignei più significativi del relitto greco-arcaico a seguito del restauro che è avvenuto in Inghilterra, gestito dalla sovrintendenza dei beni culturali di Caltanissetta. C'eravamo anche noi, vediamo. È stata inaugurata questa mattina al Museo archeologico regionale di Gela la mostra evento La nave greca di Gela. Per l'occasione sono state aperte le casse contenenti i reperti lignei più significativi del relitto greco-arcaico a seguito del restauro avvenuto in Inghilterra e gestito dalla sovrintendenza dei beni culturali di Caltanissetta. Sono stati esposti alcuni oggetti appartenenti alla nave, recuperati nelle ultime campagne di scavo attraverso un'esposizione che descrive la vita di bordo, lavori a bordo e sulla nave. Ora il futuro sarà quello di cercare al più presto di poterli esporre al pubblico montati, cioè rimontare la nave, dare l'opportunità al fruttore, all'utente, al turista, a noi stessi di poter ammirare la nave nella sua, non interessa perché non è intera, però montata e con gli opportuni accorgimenti si potrà capire come era fatta e quindi avere un'idea precisa di questa imbarcazione così importante per la città di Gela. Adesso però i cittadini chiedono altro, chiedono di poterla vedere quantomeno montata per poter accogliere turisti. Che tempi ci vorranno e come vi organizzerete? La mostra si chiama Eoploia. Eoploia significa buon viaggio. Questo è stato fino ad ora un lungo viaggio molto tortuoso. Speriamo in auspicio che prossimamente sarà veramente un buon viaggio. I tempi quali sono? Quelli da un lato che si devono dare incarichi per studiare e di musealizzare la nave, sia per cercare di rimontarla ma anche per dare tutte quelle informazioni possibili per avere una funzione corretta della nave. Dall'altra speriamo che parta almeno il primo lotto per realizzare questo museo delle navi che ci troviamo alle spalle e nel frattempo abbiamo proposto il secondo lotto per la realizzazione di tutta l'opera. Che tempi che abbiamo? Il primo speriamo nel giro di un anno, un anno e mezzo di completarlo e finalmente la nave avere la definitiva collocazione. L'altro non so rispondere perché non appartiene a me la competenza. E sentiamo ancora le altre interviste che sono state realizzate oggi durante l'iniziativa che si è svolta al museo. Dopo oltre 2700 anni tornano a casa restaurata e finalmente vengono aperte le casse dopo un paio d'anni dal restauro. Sì, è anche emozionante perché per la prima volta noi vediamo fisicamente i legni che li abbiamo sempre immaginati e li abbiamo immaginati anche montati ovviamente. Sono nelle casse, sono qui, è una data storica, è una data storica però io lo vedo come inizio perché ce ne sono tante altre di navi che dobbiamo recuperare, dobbiamo restaurare. Oggi si parlava di creare qui la possibilità e la struttura per restaurarle le navi. Ho parlato con il sovrintendente Tusa che ha questo sogno nel cassetto che è anche nostro, quello di creare una struttura per il restauro dei legni, dei ferri, dei metalli in questo luogo. Diventa una nuova piccola industria che si può collegare a quelle che cerchiamo di far rinascere in questa città che poi è il futuro vero che ci attende. Onorevole, da più parti viene sostenuto che la cultura può diventare il vero motore dell'economia della Sicilia. Lei che idea si è fatto? Ma io è un'idea che ho sposato fin da subito da quando sono entrato in assemblea regionale e i miei primi interventi in commissione qui andavano proprio in questa direzione. Attorno all'idea dei legni che tornano qua a far nascere laboratori di chimica, di restauro, si potrebbero realizzare posti di lavoro incredibili per i nostri giovani che invece vanno a portare le loro intelligenze altrove e lì, come per il caso di Portsmouth, noi abbiamo fatto il restauro e a Portsmouth, siamo in grado di poterli fare qua, cerchiamo di operare in questa direzione. Con quelle emozioni sta vivendo questa giornata? Allora, finalmente arriva il sogno, quello dei Gelesi, soprattutto quello mio perché tutti questi sacrifici che io ho fatto nell'attività di volontariato e nell'attività di archeologia credo che finalmente possiamo dire avere il museo è quello che veramente valorizza i reperti archeologici. Da quel giorno, dicevamo, è passato un po' di tempo, adesso si realizza un primo sogno, il prossimo qual è? Di cercare di fare gli investimenti su quello che è il Bulala, perché il Bulala ha ancora tanti tesori nascosti dove si deve intervenire soprattutto nella fase di recupero e tutela di questo patrimonio archeologico. Il servizio di accudienza degli alunni diversamente abili proseguirà sino alla fine dell'anno scolastica e la rassicurazione dell'assessore servizi sociali del comune di Gela, Licia, Abela, dopo che una scuola secondaria di primo grado ha esaurito il budget regionale previsto. La soluzione adottata, ha spiegato Abela, garantisce la continuità dell'accudienza scolastica, anche qualora si dovessero registrare nuovi imprevisti, grazie alla disponibilità di volontari qualificati che ringraziamo per la loro opera accanto ai bambini che ne hanno bisogno. Molti di essi sono operatori socioassistenziali già impegnati nello stesso servizio. Dal 25 febbraio al 17 marzo prossimo si terrà a Gela presso i locali della Chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldi, dal titolo La sostenibilità nel paesaggio agricolo del Golfo di Gela. In questo territorio costiero sono avvenuti processi di trasformazione industriale e agricolo che hanno comportato la perdita di valori ambientali e culturali causando un forte degrado, dice Giovanna Tomaselli, responsabile scientifico del corso. L'inquinamento dell'area, delle acque e dei suoli per la presenza dello stabilimento petrolchimico in fase di dismissione. Le strutture serricole nelle aree dunali che comportano impermeabilizzazione, le scariche di rifiuti plastici, le opere di sbangamento delle dune e l'erosione costiera. Le attività del progetto Life Leopoldi sono indirizzate al recupero delle risorse ambientali in queste aree e al riordinamento delle attività antropiche e agricole in particolare per farne fattori propulsivi delle economie locali nel rispetto dell'ambiente e della salute degli abitanti. Il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico, affrontando temi concreti per la gestione, progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di un'agricoltura sostenibile. Interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania e esperti del settore. Ci fermiamo, termina qui la prima parte del nostro telegiornale, torniamo tra poco dopo la pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. L'attrice romana Claudia Coll racconterà l'incontro con la misericordia di Dio che ha cambiato radicalmente la sua esistenza. La testimonianza sarà resa domenica 21 febbraio prossimo al termine della celebrazione eucaristica delle 18.30 preseduta da Don Lino di Dio nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore di Gela, nell'itinerario mensile che il vicariato di Gela, insieme al Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia, ha preparato sulle opere di misericordia. È prevista per domani alle 18 nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela la presentazione del libro di Gaetano Tabì, Francesco e il coraggio della scelta. Interverranno tra gli altri dirigenti scolastici Maurizio Tedesco e Agata Gueli, il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana e l'autore del libro. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla piccola Casa della Misericordia. È sempre nei locali dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, sempre domani ma alle 17 sarà inaugurata la mostra allestita dal Centro di Cultura Salvatore Zuppardo, dal titolo da Salvatore Ad Alessandro, il Quasimodo di padre e in figlio. La mostra sarà fruibile da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. L'ingresso è gratuito. Anche quest'anno l'AIRC promuove l'uovo della ricerca per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica. L'iniziativa ripetuta da più di 20 anni viene anche promossa e sostenuta dal direttore generale alla pubblica istruzione. Si possono prenotare le uova presso le scuole che hanno aderito alla campagna oppure ai volontari della delegazione locale. Tipologia delle uova disponibili, uovo da 100 grammi per un contributo di 3 euro, uovo da 500 grammi, latte o fondente per una quota associativa di 15 euro, per la quale sarà emessa a relativa ricevuta. Sono disponibili anche uova giganti di 2, 2,5 kg e 3,5 kg da sorteggiare. Sono aperte le iscrizioni al primo corso di formazione per volontari della Croce Rossa italiana 2016, organizzato dal Comitato di Gela, aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di spendere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. Età minima 14 anni. Il corso si compone di 7 moduli a carattere teorico-pratico per una durata complessiva di 18 ore, durante le quali verranno fornite le nozioni base sul primo soccorso, BLS, sulla diffusione del diritto internazionale umanitario nel quale era chiusa la storia della Croce Rossa e sulla protezione civile. Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 25 febbraio prossimo per informazioni 328 2477 645. Continuano gli appuntamenti in occasione della 82esima stagione concertistica gelese, domenica 21 febbraio prossimo alle 19. Al Palazzo Pignatelli, concerto lirico del trio Angela Curiale e soprano, Fabrizio Capizzi al violino e Giovanni Raddino al pianoforte. L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. La delegazione AIRC di Gela, nell'ambito del programma di educazione alla salute e prevenzione attraverso l'informazione, ha organizzato due incontri per sabato 20 febbraio prossimo. Il primo incontro è previsto alle 8.45 e si svolgerà presso l'Istituto Tecnico Industriale Morselli, diretto da Ina Ciotta ed è rivolto agli studenti. Il secondo incontro è previsto invece per le 10.45 e si svolgerà presso la casa circondariale di Gela ed è rivolto ai detenuti. Relazionerà Placido Dagati, volontario AIRC, medico di informazione specialistica in igiene e medicina preventiva presso l'Università di Catania. Ne dà notizia la delegata AIRC di Gela, grazie a Condello Città. Adesso apriamo la pagina dello sport, parliamo di calcio. La Lega Sicula non ha omologato il risultato della partita di sabato scorso tra Parmonval e Gela. Sentiamo. Il risultato della gara di sabato scorso a Mondello tra Parmonval e Gela conclusosi sull'1-1 non è stato omologato. Lo ha deciso la Lega Sicula, quasi un fatto normale in merito al ricorso sulla regolare validità della partita presentato dal club bianco-azzurro. I legali del Gela Calcio infatti contestano su due fronti la risponso della gara che si è disputata sul campo Franco-Lomonaco. All'arrivo della comitiva giolese nei pressi dello stadio della cittadina del litorale palermitano, il pulmon sul quale viaggiava il Gela Calcio è stato fatto fermare e secondo il racconto degli stessi testimoni biancazzurri alcuni individui con indosso la casacca della Parmonval, uno dei quali armato addirittura di tirapugni, hanno aggredito fisicamente i componenti della comitiva giolese. Una simile accoglienza, secondo quanto riportato nel reclamo presentato dal Gela, avrebbe provocato in alcuni elementi dell'organico bianco-azzurro, soprattutto i più giovani ed inesperti, dei contraccolpi psicologici di non poco conto rispetto al loro normale rendimento in campo. E poi, cosa di non secondaria importanza, nel parapiglia che si è scatenato durante la colluttazione, è sparita la valigetta contenente i documenti dei tesserati bianco-azzurri. Quando è stata riconsegnata, mancava dei tesserini federali di tre giocatori, Floridi, Iannizzotto e Pellegrino, i quali sono stati costretti a non scendere in campo e a doversi accomodare per tutta la durata della partita in tribuna. Su queste basi, ma anche per provare a dare un freno attraverso una eventuale sanzione esemplare a chi si è macchiato di questi gesti, il Gela Calcio ha inoltrato in Lega il ricorso che, come primo effetto, ha prodotto, come dicevamo, la non omologazione del risultato di 1-1 maturato al termine della partita. Intanto, domenica prossima, si gioca e il Gela è atteso dal derby casalingo con il Mussomeri. La pioggia battente di questa mattina, così come dimostra la foto, ha reso il terreno di gioco del Vincenzo Presti un vero e proprio pantano. E stiamo parlando di un campo in erba sintetica naturale di ultima generazione, costato numerosi quattrini. E un grave lutto ha colpito la famiglia del Gela Calcio. Si è spenta all'età di 94 anni, venera Girgenti, madre del tecnico Salvatore Brucculeri. La società biancazzurra, il presidente, i dirigenti, lo staff tecnico e sanitario, gli atleti e tutti i collaboratori del club esprimono cordoglio e vicinanza al proprio allenatore. In un momento di così grande dolore siamo vicini a tutta la famiglia Brucculeri. C'è l'informazione cinematografica, sono due film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela. Alle 17.30 sarà proiettato Franni con Richard Gere, alle 19.30, alle 21.30 invece Joy. I prossimi 24 e 25 febbraio ancora all'Antidoto sarà portato in scena a servizio in camera di Emanuele Giammusso. L'orario di inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30. Per informazioni 093 38 227 07 oppure 338 71432 93. Sabato 27 alle 21.15, domenica 28 febbraio alle 17.15, al Teatro Comunale Eschilo, Flavio Brazzaventre, Guia Ielo e Agostino Zumpo porteranno in scena la bisbetica domata. Per informazioni 093 391 1 892 oppure 345 58 80 580. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie.